Allora, diciamo un bello, a bella bella, come si dice in una luce bella bella? A bella bella, bella bella, bella bella, bella bella, tu invece, bella, solamente bella, perché, cioè, ricandiamo un po' con il piano, però, cercate di cambiare, fatemi questa cortesia a velocità costante, 3, 2, 1, via, bravissima, 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 allora, il primo signore, sapete, capire, venite di nuovo, Allora, rifacciamo ancora una volta, sapete, capire, ciao, facciamo, siete stati bravissimi, capire, un pochettino più piano, va bene, sapete, perfetto, vai, 1, 2, 3, via, allora, ricapito, sapete con la maglia vella, capire, in blu, sapete, si stava muovendo? Gabriele si stava muovendo? Sì Ok, apposto, io mi stavo muovendo? No, 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 no. Chi ha detto sì? Alzami la mano, per favore, beh, fantastico, ce l'ha detto così, attenta, chi dice, attenzione, facciamo un nuovo 1, 2, 3, via, Ma è la stessa posizione. Ecco qui, a posto. Allora, faccio di nuovo la domanda. Io mi stavo muovendo? No, sì. Eh, però, semplici, semplici di dire. Eh! Ma che pepore voglio! Fantastica! Scusate, e dove? E dove? E dove? Allora, c'è il... Quindi, non è tutto il fatto, ma? Insieme a noi, no, no, no. E, 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 però, ci rispiegiamo. Perché la pepore è stato tirato del palazzo. Le quindici, siccome la terra si muove, quindi stai morto. Assumiamo che questo ovvio, che dormono in casa, ma la terra si aperta. Allora...